Covid nelle Marche, 100 ricoveri in più da febbraio a marzo. Prevenzione ai contagi in fabbrica, l'allarme dei sindacati. Vallefoglia chiedeva il reddito di cittadinanza nonostante 400 mila euro non dichiarati. Non solo Guinza, Marche Umbria unite nel rilancio dei collegamenti stradali. Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale di Rossini TV, emittente visibile in tutta la regione Marche. Questa è l'edizione con le notizie aggiornate per la giornata di oggi, giovedì 11 marzo. Apriamo questa edizione parlando dei dati relativi al Covid-19 nella regione Marche, perché oggi si è registrato il secondo dato più alto di contagi di questi due mesi e mezzo di 2021. 921 contagi su 4.327 nel percorso nuove diagnosi per un totale di 6.847 tamponi. Una cifra che porta il rapporto ad un caso di contagio ogni 5 tamponi testati. Cresce anche il dato di Pesaro Urbino con 194 casi, secondo solo ai 339 di Ancona. Al di là dei contagi è sempre più preoccupante il dato dei ricoveri saliti a 769 nelle Marche, cioè 9 in più rispetto a ieri e ben 115 in più rispetto a febbraio. Come ieri restano 107 i pazienti in terapia intensiva. Nella giornata di ieri si sono anche registrati 10 decessi di persone contagiate da Covid-19. Preoccupa quindi l'andamento del Covid, preoccupa la facilità di contagio in tutti quegli ambienti di lavoro in cui non è possibile effettuare lo smart working. I sindacati quindi del settore della metalmeccanica oggi hanno fatto il punto della situazione per quel che riguarda lo stato dei rischi nelle nostre fabbriche. Abbiamo convocato la conferenza stampa per rialzare il livello d'attenzione perché sembra che non siamo alla terza ondata ma siamo in mezzo a uno tsunami, esattamente a un anno da quando c'è stato il primo look down e da quando abbiamo dovuto fare gli scioperi per fermare le fabbriche per questioni di sicurezza. Beh, questo anno sembra che durante questo anno si sia abbassata l'attenzione. Infatti abbiamo inviato una lettera a tutte le aziende metalmeccaniche dove abbiamo sollecitato a intraprendere tutte quelle iniziative per rialzare i livelli di sicurezza. Questo perché? Perché da una parte abbiamo le aziende che giustamente e fortunatamente stanno rialzando i livelli di produzione non solo per recuperare quello perso nel 2020 ma perché ci hanno degli ordinativi importanti. A fronte di questo stanno entrando nelle fabbriche nuovi lavoratori con contratti precari. È chiaro che questo potrebbe essere un combinato disposto se la curva epidemiologica si sta alzando che noi non vorremmo far che scoppino dei focolai dentro le fabbriche. Quindi pensiamo che le aziende debbano rialzare il livello di attenzione. Stiamo riattivando tutti i comitati e i protocolli per riaggiornarli proprio perché molte aziende sembra che invece di dare la priorità alla sicurezza danno la priorità alle produzioni. Quello che noi abbiamo guardato nelle fabbriche visto che noi continuiamo andare a fare l'assemblea e continuiamo a presenziare insieme ai nostri rappresentanti che ci sono vediamo sempre che dove noi abbiamo dei rappresentanti dove siamo presenti c'è maggiore attenzione. In tante altre fabbriche l'attenzione c'è nemmeno. Va anche detto che se l'impressione del governo e in parte in quello del nostro Presidente della Regione che dà come accordo vittorioso di fare i vaccini nelle fabbriche diventa complicato. Perché diciamo questo? Perché vuol dire che chi ha i soldi fa il vaccino e chi non ha i soldi non ce l'ha? Perché ci sono mille modi per poter far vaccinare tutti perché prima bisogna capire quanti vaccini arrivano, poi bisogna capire quando arrivano e poi come distribuirli. Siccome abbiamo una struttura sanitaria che può funzionare, ci sono medici, infermieri, qui il rischio di dare vaccini alle aziende che poi l'azienda che ha soldi e ha struttura fa vaccinare i suoi dipendenti prima di altre persone che possono essere famiglie che hanno dei disabili, persone che hanno problemi di salute, allora siccome la salute non deve essere un costo e non è che chi ha i soldi merita di avere più salute degli altri diventa complicato. Quello che io chiederei con forza è che ci sia veramente un raccordo vero tra l'azienda e i rappresentanti dell'organizzazione sindacali dove riscontriamo come diceva prima Paolo che questo si verifica, siamo sicuramente molto più efficaci in tutti i settori dell'azienda della vita aziendale. All'inizio della pandemia si era riscoperto un po' questa collaborazione che purtroppo, visto che sono ripartite le produzioni, fortunatamente anche, si tende a non collaborare più su gli RLS, con il protocollo e sicuramente l'asticella delle attenzioni delle aziende si sono abbassate. Quindi è importante fare un piccolo grido di allarme per riavare l'attenzione perché siamo in piena pandemia, in piena terza ondata. Ed ora passiamo alla cronaca perché aveva un patrimonio di 400 mila euro eppure chiedeva e otteneva il reddito di cittadinanza. Questo l'illecito riscontrato dalla Guardia di Finanza di Pesaro ad una donna di Vallefoglia. La compagnia di Pesaro ha scoperto una donna che percepire indebitamente il reddito di cittadinanza, avendo omesso di dichiarare redditi derivanti da vinci dal gioco online e del marito e la sore totale. Tanto fortunata quanto smemorata. Una donna di 48 anni di Vallefoglia, nel 2019, aveva percepito 11.825 euro di reddito di cittadinanza ma si era dimenticata di dichiarare 300 mila euro di vincita al gioco online oltre al reddito del marito, risultato evasore fiscale totale per 123 mila euro. Guardia di Finanza di Pesaro e IMS hanno però scoperto tutto attraverso le ripetute incongruenze fra dichiarazioni ISEE e dichiarazioni omesse o non rispondenti alla realtà patrimoniale. Scoperte le vincite online, scoperti i 123 mila euro di reddito evasi dal marito nel gestire una rivendita al dettaglio di frutta e verdura, scoperta pure la mancata comunicazione all'IMPS dell'acquisto di un'automobile, scoperto pure il fatto che i due figli fossero stati assunti come lavoratori dipendenti. Insomma, i soldi non mancavano ma evidentemente non bastavano visto che le ripetute falsità hanno consentito alla donna di percepire nel 2019 e mantenere nel 2020 anche il reddito di cittadinanza. Un sostegno di 11.825 euro che ora è stato revocato così come partita l'operazione di recupero delle somme vase. Prospettive nere anche per il settore alberghiero pesarese che dopo il Natale vede cancellarsi anche la Pasqua e ha scenari incerti anche per l'estate purtroppo. Situazione critica che ci viene illustrata dal presidente degli albergatori pesaresi Fabrizio Oliva. Purtroppo la Pasqua si prospetta come quella dell'anno scorso e quindi gli eventi pasquali sono tutti annullati a seguito dei provvedimenti nazionali e anche durante la Pasqua perderemo circa 15.000 presenze nella nostra città e quindi un grosso danno non solo per gli alberghi ma per tutto l'indotto. Per cui diciamo che noi alberghi della riviera o della provincia tra Pasqua e Natale e i mancati eventi anche sul Carnevale perderemo sulle 50-60.000 presenze. Il problema dei ristori è molto talenante perché nel giro di quattro giorni si sono praticamente prospettati da parte del governo più soluzioni. Una prima soluzione prevedeva comunque un ristoro sulle perdite avute tra il 2020 e il 2019 nell'arco dei 12 mesi. Il disegno di legge apparso sulla stampa prevedeva solo il ristoro per gennaio e febbraio. Ora sta circolando un'altra notizia che ritorna sulla media mensile tra il 2020 e il 2019. È chiaro che non si può pensare solo ai ristori per gli alberghi di montagna ma bisogna pensare anche alle città di provincia e alla riviera adriatica dove comunque noi abbiamo avuto un grosso danno. Ho appena detto che praticamente solo tra Pasqua e Capodanno abbiamo perso circa 50.000 presenze. La stagione non sta per iniziare e quindi molto probabilmente ci ritroveremo nelle condizioni dell'anno scorso. Le bollette arrivano, i tributi locali arrivano quindi noi abbiamo assolutamente bisogno di ristori. La prossima settimana se la situazione sarà questa tornano a chiudere altri alberghi annuali. Quindi noi come settore alberghiere ci troviamo veramente in difficoltà. Per cui di noi non si parla mai perché non abbiamo il codice Ateco chiuso ma il mercato ci impone di chiudere perché non abbiamo clientela. L'altro problema grosso è che questa situazione ha bloccato anche le prenotazioni estive per cui in questo momento non possiamo nemmeno contare sulle caparre per le prenotazioni estive. Quindi c'è molto timore da parte della clientela, da parte degli italiani stessi per cui il problema della liquidità diventa ancora più pesante. Marche e Umbria si sono incontrate oggi a Cagli con i rispettivi assessori alle infrastrutture per rinnovare il comune impegno al rilancio dei collegamenti stradali fra le due regioni. Vediamo. I due luoghi simboli, la guinza sulla Fano Grosseto, l'incompiuta delle incompiute, a Cagli dove noi abbiamo un tratto di strada importantissimo, la Flaminia e il passaggio verso l'Umbria, un collegamento fondamentale per lo sviluppo economico, turistico del nostro territorio. In un momento come questo la visita del collega Melasec, una visita che porta risultati concreti perché c'è un accordo su tutta la linea per risolvere problemi infrastrutturali del nostro territorio, non solo problemi infrastrutturali stradali ma anche ferroviari, abbiamo parlato anche di ciclabili, rappresenta davvero una svolta per le nostre due regioni e per il centro Italia. Dicevamo che per la prima volta dopo tanti anni queste due regioni istituzionalmente si incontrano e hanno una visione strategica definita per lo sviluppo dei nostri territori. Davvero un passo in avanti. Ci siamo accordati con il collega Melasec che già tra due settimane ci rincontreremo per definire dei cronoprogrammi che non dipendono ovviamente soltanto dalle due regioni ma anche dagli enti sovraordinati. Stiamo recuperando il tempo perduto in passato. Questa sintonia devo dire che porta davvero bene perché già sono stati nei giorni passati, nelle settimane passate, si sono svolti dei tavoli tecnici che hanno portato risultati concreti. Parlavamo prima della Orte Falconara che ovviamente riguarda i nostri due territori, non solo sono stati individuati dei finanziamenti ma sono stati individuati tempi di priorità per la realizzazione di alcuni tratti di queste opere. Abbiamo rinsaldato questi rapporti perché a livello nazionale siamo due regioni medie, l'Umbria più piccola delle Marche, unire le forze stiamo notando sta portando risultati importanti. C'è anche una, devo dire, il che non guasta, una sintonia dal punto di vista diciamo del rinnovamento delle due amministrazioni, Umbria e Marche e quindi grazie anche a questo rapporto c'è un'amicizia personale e stima fra noi due. Credo che i risultati da qui a breve, medio periodo, si vedranno tutti. Ed ora dalle strade passiamo alle piste ciclabili perché prende corpo anche il progetto del ciclovia del Foglia. La regione Marche ha infatti avviato il bando di gara per rendere esecutivi i lavori di realizzazione di questa grande opera di mobilità sostenibile. Un progetto che abbiamo come ragione Marche, avevamo previsto questa rete di piste ciclabili a livello regionale sia lungo la costa adriatica, la cosiddetta ciclovia adriatica, ma soprattutto anche tutta una serie di ciclovie trasversali, quindi che vanno dalla costa verso l'entroterra. All'interno di questi progetti che avevamo finanziato c'è un finanziamento di 5 milioni e mezzo di euro che prevede la pista ciclabile, cioè il prolungamento dell'attuale ciclabile che parte da Ponte Vecchio di Pesero per arrivare fino a Casina di Auditore in questa prima fase, quindi che va a attraversare i comuni di Tavuglia, di Montelabate, di Valle Foglia, di Monte Calvi in Foglia, ovviamente partendo dal comune di Pesero. Proprio in questi giorni è stata fatta la gara per individuare i progettisti che devono fare il progetto esecutivo. La regione Marche gli ha dato tre mesi di tempo, quindi indicativamente per il mese di maggio-giugno dovremmo avere il progetto esecutivo. Questo vuol dire che entro l'anno, al massimo entri primi del 2022, si partirà con la gara e quindi con i lavori. Un risultato che sembrava impossibile, invece mano a mano si sta procedendo, anche perché abbiamo come obiettivo il dover spendere queste risorse. Voglio dare anche un'informazione perché ci sono molti cittadini che ad esempio mi hanno scritto dove vedono che la pista ciclabile è interrotta in diversi punti lungo il fiume. Questa introduzione è legata al fatto che nel corso degli anni abbiamo portato avanti tutta una serie di progetti di messa in sicurezza idraulica, quindi il rafforzamento soprattutto degli argini e appunto in alcuni tratti la ciclabile è chiusa perché la regione Marche sta facendo questi lavori molto importanti, parliamo complessivamente di oltre 3 milioni di euro, lavori che prevedono il rafforzamento degli argini, quindi la messa in sicurezza di tutto quello che ci sta attorno. È un lavoro di attesi da anni e io penso che un po' con i lavori sugli argini, un po' con il percorso ciclopedonale avremo veramente una bella riqualificazione del fiume. Ricordo che per quanto riguarda la ciclabile lungolavorata del Foglia non sarà tutta lungo il fiume, ma alcuni tratti passeranno in prossimità delle zone artigianali, in prossimità delle abitazioni, quindi ci sarà un'alternanza di tipo di paesaggio con l'obiettivo appunto di essere utilizzata sia dal punto di vista della mobilità sostenibile nella quotidianità, ma anche come un percorso ciclopedonale, soprattutto anche per il tempo libero, con l'ambizione di essere utilizzata anche dal punto di vista della promozione territoriale, quindi dal punto di vista turistico. Il garante dei diritti Giancarlo Giulianelli ha inoltrato richiesta ufficiale alla direzione del carcere di Villa Fastigi di una fotografia precisa delle misure di contenimento del Covid-19 all'interno del penitenziario, dopo che si è registrato un focolaio che conta attualmente 20 detenuti positivi al virus. La Camera di Commercio delle Marche ha elaborato i dati dell'ultimo trimestre del 2020 che archiviano l'anno pandemico con una preoccupante meno 11,7% di esportazioni rispetto al 2019. Nelle Marche il risultato peggiore è quello di fermo con meno 22,9%, Pesaro Urbino si attesta al meno 14,5%, mentre Ascoli Piceno è l'unica provincia con segno positivo, un più 1,6% legato al suo comparto farmaceutico. L'Assemblea della Federazione PD di Pesaro Urbino ha eletto all'unanimità Rosetta Fulvi come segretaria provinciale e Monica Scaramucci presidente. In un momento politico non semplice per il PD nazionale, la Federazione provinciale sceglie dunque le donne per guidare il percorso che porterà alla fase congressuale. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a fare attraverso il numero di Whatsapp 370-366-7210. Potete mandare messaggi di testo, potete mandare foto, potete mandare video. Oggi ci occupiamo di una segnalazione andata a buon fine, infatti alcune settimane fa vi abbiamo mostrato lo stato di incuria e degrado in cui versava la pista da skateboard di via Ponchielli. Ecco ora come si presenta. La pista di skateboard di via Ponchielli non è più un luogo dimenticato dagli enti cittadini preposti alla pulizia degli spazi pubblici. A metà gennaio le segnalazioni dei telespettatori di Rossini TV avevano acceso le telecamere su questo angolo alle spalle del campo da calcio di Villa San Martino. Ecco come si presentava allora, una specie di discarica a cielo aperto fra sacchi dell'immondizia sparsi ben oltre i bidoni, plastiche lattine ovunque, tracce di bivacchi, cataste di legname, pietre, bottiglie e pericolosi frammenti di vetri rotti. Ora anche grazie al senso civico degli skaters che frequentano quest'area, le due piste da un paio di settimane sono completamente ripulite e si stanno mantenendo tali. Perché non basta ripulire, bisogna aggiungersi anche un senso civico di rispetto ambientale che a quanto pare sta facendo un salto di qualità. E invitiamo sempre i telespettatori di Rossini TV a essere sentinelle del territorio e continuare a segnalarci situazioni di degrado e in cura nella speranza che l'intervento delle nostre telecamere possa aiutare a risolverli. E allora vedete che segnalare le cose a Rossini TV funziona e serve, quindi vi invitiamo costantemente a denunciare le cose che non vanno. Abbiamo finito qui la nostra edizione del telegiornale, questa sera come tutti i giovedì torna una nuova puntata di Insieme a Canestro alle 21.15 in replica alle 22.30. Questa sera ospiti d'eccezione. Abbiamo il titolare della Carpegna Prosciutto Andrea Beretta e poi Simone Zanotti che è ala della squadra Carpegna Prosciutto e poi attenzione Dan Peterson ex allenatore e All of Famer. Grande commentatore sportivo che ringraziamo per aver partecipato e per partecipare questa sera al nostro programma. Tra l'altro potete anche partecipare in diretta e mandarci messaggi su WhatsApp. E domani è venerdì, torna una nuova puntata di Casa Rossini in diretta alle 10, ci sarà con noi Francesca Frenquellucci che è assessore all'innovazione del Comune di Pesaro, Emanuele Feduzzi che è il sindaco di Fermignano e poi avremo anche Andrea Biancani che è vicepresidente del Consiglio regionale. Adesso vi lascio con il meteo per i prossimi giorni e vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa di domani in diretta alle 7.20. Buona serata.